Ciao a tutti, io sono Frico e bentornati sul mio canale per questo nuovo episodio su Elden Ring. Ora, ci hanno detto del generale Radan, abbiamo rincontrato l'uomo lupo che abbiamo visto all'inizio, cioè all'inizio, abbiamo visto nella foresta un paio di episodi fa. Chi? Senti? No. Non proprio, non credo. Dai, perché no? Addirittura! Fammi vedere la full picture! Ok. Posso... non combatterlo? Ho cambiato idea! Oddio! Mi sembra tutto qui! Sì. Posso farmi aiutare? Che succede? Che succede? Ma quello è l'uomo vaso? Aspetta, aspetta! Aspetta, l'uomo vaso, non ci ho parlato! Ciao! Mi aiuti? No, ho paura. Ho paura. Perchè stanno parlando di sfidarlo loro? capisco. Ho paura che mi facciano combattere nell'arena con tutti loro dentro. e ho molta paura dell'uomo al lupo e anche di lui. Capisco. Non credo che tu farei una bella fine. Ma va bene così. Allora. Capisco. Posso farmi aiutare? Questa no, pregando. Qua si fa più intensa la musica. Posso suicidarmi? Sembra una buona idea. Perchè sfidare il generale Radan. Mi sto perdendo. Questa storia. Pietra da forgiatura di livello 6? Mi state dicendo qualcosa? Oddio no. Bene. Capisco che è uno dei quattro. Quindi devo non farmi finire un po' la strizza. Ma dammi il flagelo celeste. Ah. Bene. Lo sto arrotolando. Signori. Cosa mi hai tirato? Cosa cazzo? Come dovrei fare scusami? Bene. Cosa cazzo? Ma... È sopra... È sopra un cavallo? Ed è ancora vivo quel cavallo? Non lo so. Credo di non essere ancora in grado di poter fare questo boss. Ok. Quindi non mi proteggono. Cosa dicono questi messaggi? Oh! Mi aiutano! Andiamo! Amici! Amici! Amici no! Spostati amico! Uh! Il lupo! Lo voglio... Scusate! Aia! Mi sta pizzicando! Ma che figata! Pungiamolo tutti quanti! Io non ero scena capacarlo? Paces! È tornato! C'era anche Paces! Okina è morto! Bene! Come cazzo si muove? Oddio! Oddio! Alexander è morto? Let me be your first! No! Beh lupo! E ora ma sei solo io e te! Tra poco sarai solo tu! Non l'ho preso! Non l'ho preso! Come cazzo si muove dai! Vai! Bene! Ah! Ero vivo! Ero ancora vivo! E ormai mi ero rassegnato la mia... Morte! Però l'uomo lupo... È forte! Posso trasportarmi direttamente col cavallo? No eh! Ovviamente no! Allora! Signori! Forza! Mi servite tutti! Tutti gli amichetti! Forza! Ehi! Ehi! Aspettate! 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 Non vale questa cosa però Lasciatevelo dire che non vale Tutti insieme saremo degni però No, la sola è disumano Non interessa niente Ora, siamo arrivati a metà vita Insieme a tutti i nostri amichetti Chi ha il punto Vabbè Hatches è proprio inutile Chi è morto? No, non posso permettermi di fare queste cose Va bene Abbiamo capito che in questo episodio Dobbiamo fare respiri profondi Bere un po' d'acqua E riprovarci Più e più volte Devo riuscire a non prendere danni in questa fase C'è una merda Vai lupo Perché deve essere così cattiva Non l'ho neanche colpita Che cazzo Oddio Alexander spostati Ma che palle ho Pizzica Pizzica, 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 pizzica Vai Pungilo bene A volte che non si capisce È un cazzo Chi è morto? Ma il mezzo lupo Non l'ha avvocato È già morto È morto Dov'è andato? Come? Si sta curando? Che cazzo Che cazzo sei? Ma sei disumano Ma voi siete malati nel cervello Alexander Il signor lupo Ok Quella cosa devono sparire Ok Io Vabbè Che cazzo Mi Che cazzo E Quella Queda Che cazzo Queda Di Queda 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 E cosa le devo dire io a questo qua? Mi sta stuprando Ah ma il cannone li ha buttati Guarda questo giusto l'acei Guarda che mai.. Guarda che me tu mi buca di meia Guarda che me... Guarda che... Guarda che me tu mi buca di merda Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Ormai non c'è più niente da dire, è passata un'ora e mezzo. Devo solamente concentrarmi. Scusate il silenzio ragazzi, ma è così. No, ormai sono cotto. Devo prendere una pausa. Sennò non riesco a fare assolutamente niente. Sì. 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 ci coliamo Faccio sti merda vattene via Dov'è il castellano? No, lui è forte ma voleva il castellano Questa l'ha appiccicato al culo, c'è poco da fare Forza Ma siamo un pochi, siamo un pochi, siamo un pochi, siamo un pochi Mi serve il mozzo lupo Sto per trasformarmi Ehm Proviamo senza cavallo Perchè deve venire a pace senza rompere le balle? Perchè deve venire i chiudi Ok. Tua madre. Sto per trasformarmi. In questo momento vorrei la protesi del drago. Ok. Fermi, 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 fermi tutti. Fermi, 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 fermi. Fermi, 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 fermi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Bevi, bevi, bravo. Bevi, bravo. Ok. Ok. Penso di non essere ancora in grado di poterlo abbattere. Ho questo presentimento. Quindi Alexander e il lupo cerca di farmeli evocare praticamente sempre. Ok, mi stavo parando, ma va bene. Ok. 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 Vai andate! Ingetta i miei provi! Certo. Perché no? No, devi morire. Devi morire! Ce l'ha fatta, 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 ce l'ha fatta. Fottetevi tutti quanti Grazie arma di ghiaccio Che cosa sta succedendo? I Saiyan sono arrivati? Penso che sia peggio di Saiyan Addirittura Ciao Tutto a posto? Grazie per l'aiuto Non lo so Ah si? Spero che ci rivediamo in futuro Va bene Certo Spero come alleato sempre 70.000 Credo di non dover essere qua eh Ah il mio collo Ora Nuovo livello 2, 4, 6 3 livelli posso fare C'è poco da fare Perfetto Va bene ragazzi Noi ci salutiamo qua E ci vediamo al prossimo episodio Sempre qui Sul mio canale Ciao a tutti Se il video vi è piaciuto Iscrivetevi E lasciate un mi piace E noi come sempre Ci vediamo al prossimo video Sempre qui Sul mio canale Ciao a tutti Ciao a tutti